Dai, vieni qua che ti do la papà, dai. Non te la prendere. Hai fatto così, lo sai. T'hai fatto così. Livi hai fatto male. Conviene che impara a vivere. Io non sono più un ragazzino che per gli per un orecchio lo metti facendo. Non c'è il muro in punizione. Cosa pretendi che cambi a 60 anni? Pretendo che non mi rompa il cazzo. Perché stavolta giuro che sfondo il muro a testate e faccio come dico io. Si preoccupa? Ha paura che fai una cazzata. Ma tu non le fai le cazzate, no? Ormai sei grande e non sei più un ragazzino. Oh, dico bene? Allora c'è il ragione, papà. Sei stato te. Sì, sono stato io allora. Adesso che vuoi? Che ti dichiano Ave Maria così poi mi metti in punizione? Tanto tu non l'hai ancora capito che questa famiglia del cazzo funziona così. Siete peggio dei preti. L'importante è che si salvi la faccia. No, il nome. Hai capito o no che noi siamo il nome che portiamo? Noi siamo quello che facciamo, Lidia. E io che ti ho anche difeso. Ti ho chiesto qualcosa? Non mi sembra. Ho fatto tutto io, sono affari miei. No, sono affari di famiglia. Ma perché non me l'hai detto? Ma tu ti rendi conto di quello che hai fatto? Quelli ti ammazzano. Sì. Magari ci provano pure. Magari ci provano pure. Grazie a tutti.